Il derby di Serie D, città di Teramo Avezzano, si giocherà allo stadio Savini di Notaresco. La conferma è arrivata dalla società Biancorossa, che ha comunicato le modalità di prevendita dei biglietti. Nulla di fatto dunque per l'utilizzo dello stadio Gaetano Bonolis, dopo un primo incontro tra le parti che sembrava risolutivo. Attesa dunque per l'esito del Consiglio Comunale di lunedì, in cui la Sise dovrà votare per la ratifica del passaggio della gestione sportiva dell'impianto dalla Soleia e suo amministratore unico Franco Iachini al comune di Teramo. Sì, lunedì c'è un Consiglio Comunale che è ovviamente molto più generale, nel senso che riguarda la risoluzione definitiva della Convenzione che tanti problemi ha creato nel corso di questi anni, Convenzione per la gestione sportiva dello stadio Bonolis, che consentirà di aprire una nuova fase, una nuova epoca nella gestione del Bonolis stesso, di andare a risolvere consensualmente con il gestore della Convenzione. Il Comune di Teramo riprenderà la gestione piena, assoluta, della parte sportiva e quindi si metterà in atto e metterà in campo un nuovo percorso su cui abbiamo avuto l'ok della Commissione qualche giorno fa, Commissione Consigliare, quindi il Consiglio si svolgerà il 30 e soprattutto nel corso della Commissione, sulla base del confronto che si è avuto anche con i tecnici, con i legali che stanno lavorando per il Comune, è emersa con chiarezza la bontà di questa operazione anche rispetto ad eventuali ulteriori alternative che vanno assolutamente scongiurate. Dopo la prima gara a Casalinga contro il Roma City, il città di Teramo tornerà a Notaresco per centrare il primo successo stagionale. Non sono previste restrizioni per le tifoserie, se non quelle legate allo spazio. La prevendita per i tifosi marsicani resterà attiva fino alle ore 19 di sabato.